Sono un uomo veramente sfortunato, sono nato, impiegato, con soltanto poche mila lire al mese, dite un po' com'aggiava, quando prendo lo stipendio vi assicuro che è assai duro il mio destino, fra le tante trattenute tasse, quinto e contributi non mi resta niente. Ah, ah, come faccio? Chi lo sa? Ah, ah, non consiglio ma vi darà. Ah, 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 una mogliere ha già trovato, una mogliere brutta, vecchia, scartellata, pura raggio, ma con soldi in quantità. Il consiglio ricevuto l'ho seguito, so sposato, coniugato, e l'impiego dove stavo sistemato, per mia moglie non l'ho più. Tiene i birra fatta a formi l'arcatel, tene una sarroccoco, e un amico scostumato, piano piano ammormorato, tu li hai sato sto mò. E già, e già, tene sordi quacchita, e già, e già, tene pure proprietà. Però, però, niente ho visto fino a mò, e perciò ve lo confesso, si sta vecchio, ma fa pensare la sua primo primo primo. Ah, 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 ma è denaro, chi detta? Ah, 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 e addostante provietà? Ah, 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 e c'è un'altra novità. C'ha ipoteche sul catastro, tene lievete e proteste, e moduti la già va va. C'ha ipoteche sul catastro, tene lievete e proteste, e moduti la già va va. Ah, 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 ah.